Sei sveglio? Dottor Alex Sarkov. I soggetti dei suoi test hanno sviluppato brutti effetti collaterali. Sperimentavate su di noi senza consenso. Tilda è una Banshee. Juan è un Chupacabra. E io una succuba. Se uniamo le forze, possiamo annullare gli effetti avversi. Siete sicure che vogliamo trovarlo? Abbiamo scelta. Quindi tutto quello che fa è per creare mostri milioni. Se la consegniamo a Sarkov, condanneremo tutti esseri come noi. Mostri. Va chiamata la polizia. Chiamare la polizia è da persone normali. Noi non siamo più normali. Nessun mostro è solo. Voglio le risorse e vive. Permesso accordato? Perché vogliono ucciderci tutti? Io sono adorabile, giusto? È per noi che la gente non deve credere ai mostri. Facciamogli vedere che le cavi sanno anche mordere! Sì! Volete i mostri? Sì, allora vi daremo i mostri! Strambi. Strambi. Questi poteri se non sono la maledizione che crediamo. Chupacabra. Banshee e Succuba si beccano al parco. E la battuta? Siamo noi. Io credo che Darcy sia attratta dai Chupacabra. Lei lo chiama Chupi. Chi è un bravo Chupi? Chupi! Ma sei tu! Io vi odio, ragazzi! No, tu ci adori!